Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono Dario e questa è il recenso, la rubrica di recensioni per l'Accademia Italiana del Fumetto U-Comics a Caserta. Dunque la settimana scorsa vi avevo detto che ero intenzionato ad alternare i video in modo che quattro recensioni non pesassero poi sia sulle finanze che proprio a livello mentale che comunque quattro libri o quattro fumetti o quello che recensisco a volte può essere anche noioso parlare sempre dello stesso. Quindi assieme ai responsabili dell'Accademia sto cercando di organizzarmi in modo che dalla settimana prossima spero ci siano un po' di novità in questi video. Oggi parliamo di un manga, un manga che ho letto penso un paio di anni fa e che mi è piaciuto perché era un manga che è diverso da quelli che ho seguito finora. Quelli che ho seguito finora sono molto più shonen. Questo invece è un seinen che sarebbe un diciamo il grado successivo allo shonen. Lo shonen sono i manga indirizzati ai ragazzi adolescenti fino ai 18 anni e i seinen invece sono quei manga un po' più ricercati, un po' più elaborati che vanno anche come argomenti al di sopra dei 18 anni. Che non sono però da confondere con yentai e con altri manga del genere che comunque non c'entrano niente. Il manga in questione è diviso in quattro volumi. Eccoli qua. Sto parlando di ITER che è disegnato e scritto da Usune Masatoshi. Spero di aver azzeccato il nome. E' pubblicato dalla JP Manga al prezzo di 6,90€ ogni volume. Vi mostro prima i volumi. Questo è il primo. Eccolo qua. Il secondo. Il terzo. E il quarto. Come si può ben vedere dalla grafica di queste copertine, già si nota lo stile dei seinen, che è appunto come ho detto prima, sia come trama che come qualità della tavola, ha uno stile molto più ricercato. Se già prendiamo ad esempio uno shonen che vi ho mostrato, come può essere Death Note, c'è un livello di accuratezza, perché comunque i disegni sembrano verosimili. Qui invece, come si può vedere, vi faccio mostrare anche un po', cioè vi mostro anche un po' qualche tavola. Eccola qua. Eccola qua. Qui invece, eccolo qua. L'accuratezza è proprio nel tratto. Vi è un numeroso, un grande studio dei tratti. Anche perché, a quello che ho capito, questo manga è uscito in originale attorno al 91, se non sbaglio, non voglio dire scemenze. Per cui c'erano ancora i retini ad aiutare alla tridimensionalità della tavola, quindi le sfumature, oltre al pennino con la china. Quindi, già questo ci fa capire anche la differenza con le tavole di ora, che sono soggette a un commercio molto più rapido, perché è digitalizzato. Di Usune, chiamiamolo così, perché se no il nome non lo azzeccherò mai. Di Usune non ho saputo nulla, se non che è nato nel 1961 e vive a Kiba, o viveva, perché non sta scritto da nessuna parte. Ho fatto ricerche, ma non ho trovato niente. Kiba, o Chiba, penso Kiba, che è in Giappone. Parlavo del prezzo, un po' esagerato, però ogni volume ha la sovracoperta, con questa brossura. Le pagine sono, cioè i volumi sono molto spessi, quindi più o meno il prezzo, e poi la qualità della JP Manga, che non è quella della Panini, che si rovinano le rilegature, già questo può farci un po' compensare la spesa. Il problema è che comunque costano, perché sono quattro volumi e la storia non si conclude in ogni volume, per cui dobbiamo, se vogliamo sapere tutta la storia, dobbiamo sempre spendere un bel po' di soldi. La storia funziona in questo modo. Sfrutta un po' la vicenda dell'evento accaduto il primo febbraio del 2003, quando lo Space Shuttle Columbia, nel viaggio di ritorno sulla Terra, si è in pratica disintegrato nell'atmosfera. Questo evento viene sfruttato dall'autore, perché ci introduce una vita aliena. Questa vita, o meglio, questa presenza aliena, è una presenza che si è instaurata già nella società umana, molto tempo prima della distruzione del Columbia, che se non sbaglio qui viene nominato in modo diverso. Non mi ricordo. Viene chiamato... Oddio, come si pronuncia? Sundonzer, penso. O Sandonzer. Comunque, ovviamente, viene chiamato in modo diverso. Sfrutta questa vicenda per presentarci, quindi, questa civiltà aliena, che si è insinuata all'interno della società umana, perché sfrutta la popolazione come incubatrice, per quindi proliferare. Appunto, perché evidentemente hanno problemi con le femmine del posto, non lo so. Comunque, c'è questo problema e loro sfruttano le donne terrestri per concepire figli. Non posso dirvi molto perché è comunque un fantascientifico horror, molto splatter, quindi già il fatto che sia seinen ce lo fa intuire, che però va regato di mistero. Quindi, quello che posso spiegarvi è che c'è questo personaggio principale, di nome Benimaru, che in pratica si trova a dover affrontare quello che è il peso della sua eredità. Appunto perché è nato per metà umano, si trova un po' in conflitto con gli altri suoi compagni, solo che c'è una cosa in particolare che lo differenzia dagli altri, che, a differenza sua, hanno accettato la loro natura mostruosa aliena e quindi, secondo le loro leggi, vogliono e pretendono che Benimaru sia del loro stesso parere, per cui faccia le loro stesse scelte. Benimaru, però, ovviamente, se no il manga non stava qua, non accetta questa sua natura, anche per delle scelte che sono state fatte nel passato dalla sua madre umana. Quindi, gli viene mandato contro Korumaru. Korumaru. Che nomi! Korumaru, in pratica, lo vuole costringere ad accettare la sua natura, però, in seguito allo scontro, Benimaru si trova sotto le amorevoli cure di un'umana. Quest'umana è Aoko. Aoko è una ragazzina che dice di essere una medium. Infatti, lei aiuta gli spiriti a capire che in realtà sono morti e quindi a passare oltre. dati i trascorsi di questa popolazione aliena sulla Terra, anche Aoko scopre più in là che i propri poteri non si limitano alla semplice comunicazione con gli spiriti. Per cui, sia lei che Benimaru si trovano faccia a faccia con moltissime sfide dovute proprio al popolo di Benimaru che sotto vari possiamo definirli ambasciatori che però non sono tali perché armigieri violenti vogliono costringere Benimaru o a schierarsi dalla loro parte o a morire in pratica perché lui è un alieno e deve comportarsi come tale. Quindi la storia prosegue attraverso questi scontri. Aoko divene quindi una parte molto attiva e decisiva nella storia di Benimaru e comunque nelle vicende di questa quadrilogia chiamiamola così che altro non è che un susseguirsi di colpi di scena alcuni veramente resi molto bene e anche con molto realismo altri invece che purtroppo come succede nei manga sono resi in un modo un po' troppo enfatizzato che perde anche un po' di quello spessore che ad esempio invece nei libri troviamo molto più calcato quindi un ambient preoccupato il personaggio sarà atteso avrà una serie di preoccupazioni diciamo sarà un po' più sarà reso meglio psicologicamente mentre in un manga questo avviene fino a un certo punto perché ovviamente il disegno deve anche staccare un po' la tensione quindi la trama fa lo stesso e abbiamo anche delle piccole digressioni che sono tipiche dei seinen che comunque aiutano a distendere un poco la narrazione a discapito a volte proprio della narrazione stessa e questo può dispiacere come viene resa la ricercatezza del tratto io purtroppo ho sempre questa webcam molto arrangiata però già da questa immagine si nota come i muscoli di questo personaggio siano sì studiati quindi c'è una ricercatezza nell'anatomia ma comunque deformati perché è un alieno sono comunque tavole molto particolari molto belle che difficilmente trovo in in un in un shonen mentre un seinen appunto anche per come viene reso graficamente già questa copertina che è favolosa aperta tutta quanta come dicevo in un seinen non mi aspettavo si rendessero così nel dettaglio cose che in un manga io sono abituato a vedere nell'essenziale invece qui c'è proprio quella accuratezza che cambia la visione del manga e che aiuta anche la narrazione appunto per il suo modo di entrare nel dettaglio e di rendere in maniera decisiva anche il susseguirsi degli eventi e non un un miscuglio di linee che non è mai così nel manga perché sono tutte cose studiate però a differenza dello shonen ha un suo perché o perché è un è un seinen fantascientifico fantasy avventuristico horror come dicono online però per me è reso veramente molto bene nulla io ve lo consiglio anche solo per sfogliare le pagine perché la narrazione a volte diventa complicata però è veramente bello reso veramente molto molto bene poi ognuno di noi ha il suo modo di apprezzare una trama però io ve lo consiglio mancano giusto un paio di giorni alla fine del concorso del contest per cui quanto prima spero di tornare a caserta il tempo di risolvere un po' di cose e di vedere anche un po' i ragazzi e le attività che ci saranno sicuramente dopo questo contest perché stiamo organizzando un po' di cose poi niente spoiler perché sennò a caserta mi sgozzano e vi faccio poi sapere quanto prima anche per la questione che vi ho detto del numero di recensioni che vi farò avere ogni settimana o durante il mese ci sentiamo la prossima volta purtroppo febbraio niente libri niente acquisti però spero di rimontare a marzo chissà ci sentiamo nel prossimo video ciao ciao